Favorire la creazione di piccole micro imprese altamente innovative e tecnologicamente molto avanzate finanziando da un lato le spese di costituzione con un contributo ma dall'altro la formazione, la qualifica di chi si rende partecipe e protagonista dell'iniziativa. Il bando regionale App Abruzzo, parti da te, ha una dotazione finanziaria di circa 1.500.000 euro che sarà gestita da Fira, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese che coordinerà il progetto in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Università degli Studi di Teramo, la Fondazione Politecnico di Milano, la SIA e di Pixel. Le attività previste si svolgeranno attraverso quattro fasi consecutive complementari. La prima prevede una campagna informativa realizzata attraverso lo scouting Tour Bar Camp per dare informazioni ed indicazioni sul bando e aiutare i soggetti interessati alla costruzione del progetto da presentare. Una volta selezionati i 45 beneficiari, inizieranno il programma con il Tech Meeting Bar Camp una full immersion di due giorni per favorire la creazione di team e far sì che i progetti presentati si trasformino in start-up. Successivamente ci saranno i percorsi formativi multidisciplinari per la durata complessiva di 400 ore che si terranno in presenza in modalità e-learning presso l'Università di Teramo con docenti dell'Università dell'Aquila, Teramo e Milano con il coordinamento di SIA. Inoltre è previsto un programma di training e di accelerazione a cura del Poli Hub con il supporto di D-Pixel che avrà la durata di 5 giorni full time con docenti della Business School del Politecnico di Milano oltre che incontri con imprenditori, investitori ed esperti del settore. Qual è il percorso delle start-up nella nostra regione? Rappresentano oramai una nuova frontiera dell'economia, una nuova frontiera dell'occupazione. Si pensi che delle start-up costituite negli ultimi tre anni hanno partorito 35.000 nuovi posti di lavoro. La realtà in Abruzzo è comunque marcata. Fira detiene un market piuttosto elevato in termini percentuali. 44 sono le partecipate start-up da parte di Fira che rappresentano circa il 70% dell'intero segmento delle start-up presenti in Abruzzo. Un mercato quindi è una frontiera sicuramente da perseguire, perseguibile, importante per i giovani che vogliono trovare una nuova occupazione, ma che necessita poi a livello nazionale di un supporto importante in termini di defiscalizzazione e di incentivo all'equity, cioè incentivo all'apporto di capitali all'interno di questa realtà.